Una campagna elettorale dai toni sempre più aspri è quella che si sta profilando per Roma, Torino e Milano. La guerra all'ultimo voto accentua le divisioni dentro i partiti, tra gli alleati e tra gli avversari, a Napoli. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni presso le abitazioni e le sedi dei comitati elettorali di due candidati del PD per l'ipotesi di reato di associazione delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, mentre a Roma sono in corso verifica in 30 sezioni elettorali per anomalie e verbali incompleti. Matteo Renzi avverte che se anche il PD dovesse perdere Roma e Milano non ci sarà alcun riflesso sul suo esecutivo. Abbiamo già detto che l'esito della permanenza al governo è legata al referendum costituzionale, ripete. Dentro il PD Pierluigi Bersani assicura di voler continuare a lavorare per la ditta in vista del prossimo voto, ma il suo giudizio sul primo turno resta severo. Bastava andare in giro, parlare con la gente, ma non dico nulla, fino ai ballottaggi. Perderà a Torino, perderà a Milano, perderà a Trieste. C'è qualche possibilità che perda anche a Bologna, anche perché il candidato sindaco del PD sia un anti-Renziano. Perderà certamente a Roma e ha già perso a Napoli. E' più di così. D'Alema nel 2000, per molto meno, dopo la sconfitta alle regionali, si dimise da Presidente del Consiglio. Si dimetterà anche Renzi? Chi lo sa. Io penso che non arrivi al referendum di ottobre. Non va meglio nel centrodestra. La mia missione, per volere di Berlusconi, era impedire l'accesso della Meloni al ballottaggio, annuncia Alessandra Mussolini. Fa un certo effetto vedere una Mussolini vantarsi di una badogliata replica alla leader e candidata di Fratelli d'Italia, che assieme alla Leca ora pretende una smentita di Forza Italia. Oggi più che mai Forza Italia vuole e lavora per l'unità del centrodestra, per offrire agli italiani un'alternativa alla sinistra delle tasse e dei disastri che governa attualmente. I risultati di domenica dimostrano che uniti possiamo essere vincenti dappertutto. Prosegue poi il botta e risposta a distanza tra PD e Movimento 5 Stelle. I PD nirosicano perché il Movimento 5 Stelle è la forza più votata alle comunali. Si inventano numeri e dati farlocchi per nasconderlo, attacca il blog di Grillo. Inventa falsità per falsoldi. Fa schifo, replica il presidente Dem, Matteo Orfini. Il PD è nettamente il primo partito in Italia senza alcuna ombra di discussione, taglia corto invece Renzi. E mentre Salvini parla di un asse con il Movimento 5 Stelle nei fatti per Roma e Torino, il Movimento nega l'ipotesi di accordi con la Lega. Non abbiamo mai fatto e non faremo mai accordi con questa classe politica che ha distrutto il Paese. I voti dei cittadini non sono di proprietà dei segretari di partito. Il Movimento 5 Stelle si presenta con un programma chiaro ed è per questo che si rivolge a tutti gli elettori.